Benvenuti al Tg Riviera dei Fiori. Ieri pomeriggio Matteo Renzi, sindaco di Firenze, ha incontrato a Taggia Villa Boselli cittadini e sostenitori nell'ambito del suo viaggio in camper per l'Italia. Infatti Renzi è l'avversario diretto alle primarie del PD dell'attuale segretario Pierluigi Bersani. E veniamo alla pagina dell'economia. Abbiamo parlato nei nostri telegiornali della tavola rotonda sull'economia organizzata dalla Cisa d'Imperia, dal titolo Dall'analisi del territorio all'opportunità di sviluppo, tante le prospettive dal punto di vista urbanistico ma anche dal punto di vista agricolo. E proprio sul mondo agricolo abbiamo sentito il presidente della Col di Retti, Antonio Fasola. Il mondo agricolo porta le sue istanze nella speranza di costruire un progetto comune con tutte le realtà economiche al fine di superare questo momento di crisi. In provincia d'Imperia il mondo agricolo come PIL rappresenta oltre il 5%, ma non è solo il numero ma tanto quanto il momento vero e proprio del lavoro, cioè l'impegno degli occupati che è notevole numeroso e il fatto anche del mantenimento del territorio che consente a questo territorio di poter essere competitivo non solo a livello agroalimentare ma anche turistico. E quindi insieme alle altre compagini sociali da questo convegno possono scatturire delle idee con delle progettualità comuni. Ma c'è ancora spazio per occupati nel mondo agricolo? C'è ancora spazio perché comunque sia abbiamo una grande opportunità. La prima che è l'opportunità di andare a recuperare tutti i terreni abbandonati. Noi abbiamo più di un milione oltre di piante di oliva abbandonate. Abbiamo anche la realtà comunque floricola che ci sono alcune realtà che sono abbandonate di serie che potrebbero essere sia usate per la coltivazione dei fiori sia anche poter essere riconvertite alla coltivazione di ortaggi. Non per niente, il chilometro zero, il farmer market, le botteghe di campagna amiche, insomma il progetto col diretti. Quindi il mondo agricolo è ancora un'opportunità di sviluppo? Il mondo agricolo è ancora un'opportunità di sviluppo come sono tutte le opportunità di sviluppo le attività produttive che fanno forza sulla vitalità e sulla gente del territorio. L'agricoltura insieme a altre realtà come può essere l'artigianato, come può essere tutta la piccola imprenditoria, cioè fa leva sulla forza e sulla capacità di impresa delle persone che vivono nel territorio e il guadagno ricade sul territorio. Non sono multinazionali che investono qua e poi vanno e con i loro guadagni li portano chissà dove all'estero in quali banche. È notte bianca, siamo arrivati al 15 settembre e a Sanremo grande festa per tutta la notte si comincia con la sfilata di moda, note di moda nel Teatro dell'Opera del Casino di Sanremo. Gli abbiamo parlato con il direttore provinciale di Confartigianato, Barbara Biale, che organizza. Ho fatto questa sfilata per valorizzare quelle che sono le nostre migliori produzioni artigianali nel mondo della bellezza e della moda, impreziosite da pezzi pop eseguiti dall'Orchestra Sinfonica di Sanremo presso il Teatro del Casino. Credo che sarà un evento molto bello. Ci saranno dei commercianti di Sanremo che presenteranno? Ci saranno degli artigiani di Sanremo e ci sarà anche la presentazione di tutto quello che è l'attività di preparazione delle modelle, della bellezza, del benessere, quindi si vuole sottolineare la parte iniziale della parola artigianato, cioè l'arte. Una serata che abbellirà anche la Notte Bianca di Sanremo? Sì, lancia la Notte Bianca, apre la Notte Bianca, la abbellisce all'insegna della collaborazione e della valorizzazione di tutte le cose belle e importanti che abbiamo in questa città. Il pubblico potrà intervenire liberamente? Il pubblico sì, può entrare tranquillamente, gli ingressi sono liberi e gratuiti. E fra le tante iniziative ed eventi continua sull'Imperatrice, la bella passeggiata di Sanremo, il mercato dedicato all'artigianato, alla creatività, dal titolo Bell'Idea all'Imperatrice. È dal 12 settembre che le bancarelle ci sono, stanno riscuotendo molto successo e vi proponiamo l'intervista al vice sindaco Claudia Lolli e all'organizzatore. Nata dalla volontà di trovare ancora l'Imperatrice piena come i bei vecchi tempi. Abbiamo pensato anno scorso di provare a introdurre questo mercatino delle bancarelle, delle belle bancarelle, devo dire che dopo due anni si vedono già i risultati. Chi sono i partner dell'iniziativa? Il partner dell'iniziativa ce l'ho al mio fianco, è una persona che ha creduto in questa iniziativa, ci siamo incontrati, siamo trovati subito sulla lunghezza d'onda, direi, perfetta. Quello che si voleva a noi era una cosa di classe ben fatta, lui ci è venuto incontro, noi vorremmo dare alla città vitalità, vogliamo che saremo sia città turistica. Il turismo vuol dire sicurezza, gente in giro, luce, movimento e soprattutto denaro che gira, perché poi l'importante è quello, far girare quel poco denaro che c'è, metterlo in giro e far lavorare tutti. Un artigianato particolare, un artigianato di classe, vengono dalla Calabra, dal nord Italia, dalla Lombardia, da tutte le parti d'Italia, anche penso dalla Francia, ho visto qualche bancarella anche di Provenzale. È quello che chiede il turista, il turista vuole alla sera uscire, trovare movimento, vivacità, poter spendere qualcosina, poter curiosare, avere quelle due rete da dire sto fuori, faccio qualcosina senza impegno, però poter gironzolare e così rilassarsi. Siamo molto soddisfatti, siamo più che altro soddisfatti che siamo a Sanremo, perché Sanremo ci ha ospitato, perché se non avessimo avuto la collaborazione del Comune non basta chiedere permessi, bisogna anche averli. E noi facciamo tutto il possibile per risolvere tutti i problemi che esistono. Oltre alla collaborazione del Comune c'è anche il CIV di Corsi Imperatrici? Sì, dall'anno scorso si è creato, sono con noi, è con noi anche lo commercio, i bagni marini sono più che soddisfatti perché effettivamente stiamo portando da grande movimento e questo è quello che vogliamo, penso tutti. Gli orari sono dalle 10 del mattino, andiamo avanti fino a mezzanotte, fino a che della gente ci chiede di poter visitare i banchetti. E siamo giunti al temere del nostro notiziario, grazie di essere rimasti con noi.